Doveroso fargli i complimenti per questa realtà che avete creato, magari sarebbe bello poterla farla giocare a Montevacchi, non Presidente, questo lo vorrebbe? Noi vorremmo giocare a Montevacchi, speriamo di giocarci presto, ma purtroppo le cose burocratiche sono così. Ma non manca? Ci sono delle buone novità, delle buone notizie, però al momento siamo in attesa, speriamo che siano rispettati i tempi. È stata una bellissima partita, soprattutto nel primo tempo, poi il Pescara è venuto fuori alla distanza, ma al primo tempo è stato molto bello, gradevole e intenso, d'accordo? Mi fa molto piacere che emittenti come la vostra gratifichino la nostra prestazione, io dico però che il Pescara obiettivamente ha un altro tasso qualitativo, fatto di giocatori, tecnico di alto livello, però noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare alla fine e suona come una doccia fredda, anche se riconosco che il secondo tempo il Pescara ha fatto decisamente molto di più, quantomeno sotto il profilo del predominio trattico territoriale. Il calcio è questo, bisogna sapere accettare, magari ci andrà bene un'altra volta, però noi siamo soddisfatti da prestazioni che abbiamo fatto, abbiamo ragazzi giovani, quindi... Mi dice la cosa che le è piaciuta di più del Pescara? Il possesso palla, la capacità dei giocatori di maggiore esperienza di far girare il pallone, vivono di questo, quindi i Memoucha e gli altri interpreti, se non li aggredisci come avevano fatto nel primo tempo, è chiaro che se prendono campo ti mettono chiaramente in difficoltà. Grazie.